ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo mini video oggi volevamo parlarvi un po perché ce l'avete chiesto in tanti e poi non ci piace parlare di queste cose delle nostre motosega e quelle che utilizziamo abitualmente e meno abitualmente in azienda per farci comunque la nostra legna per il fuoco e per pulirci i nostri terreni e tutto quello che ne consegue dall'utilizzo della motosega abbiamo deciso di includere in questo video anche la sta per portare perché comunque ha una barra che una catena e la possiamo chiudere tranquillamente nel video delle delle motoseglie qua abbiamo più o meno 8 attrezzature di cui parlarvi velocemente volevamo dirvi più o meno le loro caratteristiche quello che ci piace quello che non ci piace dell'una e l'altra e in cosa per cosa le utilizziamo partiamo dalla dall'asta per portare questa è un pezzo di un attrezzo che del multi utensile della della ego power ed è praticamente un'asta per portare ovviamente ad altezza elevate questa se non sbaglio con la sua prolunga in multi utensili arriva più o meno quattro metri di altezza e lo usiamo proprio per portare gli alberi che sono comunque hanno le fronde che scendono nelle strade quindi sono a graffiare la macchina per fare delle potature comunque anche agli alberi dei pochi alberi da frutto che noi che noi abbiamo in azienda devo dire che è molto comoda col multi utensile che è un utensile a batteria delle batterie 56 volt con amperaggi diversi e noi abbiamo la 5 ampere la 7,5 ampere con l'asta per portare praticamente con una batteria ci lavoriamo più che mai più di mezza giornata perché ha un assorbimento di corrente veramente basso e lo troviamo molto comoda perché comunque non dobbiamo prendere le scale per portarci gli alberi per portare le cose che si disturbano anche nelle strade vicinali e per noi è perfetta è una lama da 25 cm quindi 10 pollici barra e catena solo della oregon e taglia devo dire benissimo posso dire piacevolmente stupito perché non me l'aspettavo così fa molti giri ora non mi ricordo quanti metri a quanti metri al secondo gira la lama però è parecchio veloce e taglia che è una meraviglia la motosega che noi utilizziamo alla fine di più sia in azienda che per fare legna è questa è una è un'alpina ovviamente una motosega per per amiciare si usa anche con una mano sola perché l'impugnatura altra molto e molto comoda e leggera pesa intorno ai due chili e mezzo che sembra 3 kg a un motore non mi ricordo la cilindrata però a un cavallo o poco meno forse 0,8 cavalli hp ed è comodissima noi l'abbiamo equipaggiata prima non mi ricordo che barra aveva l'abbiamo equipaggiata con una barra e catena della oregon che comunque sono più che affidabili ed è come ho detto la motosega che utilizziamo di più perché comoda e piccola e leggera la usi con una mano sola anche noi più che altro non abbiamo purtroppo nella nostra zona foreste con alberi grossi ma più che altro macchia mediterranea e andare a tagliare la macchia mediterranea con questa è comodissimo perché vai con una mano sola che ti tagli tutti i pezzettini ci enti tranquillo e non ti uccide le braccia il modello mi pare che c'è scritto qua è una pr 270 e modello diciamo economico però noi ce l'abbiamo da quanto ce l'abbiamo abbi la conferma ce l'abbiamo da cinque anni più o meno e non ci ha dato grossi problemi l'unico gli abbiamo cambiato le membrane due volte è una volta la barra e comunque colpa mia mi si era bloccata la la pompetta dell'olio ho voluto continuare a usarla allo stesso perché avevo quasi finito e alla fine gli ho bruciato la barra della catena poi c'è la la gemella cattiva stiamo a dire così perché praticamente sono quasi uguali anche di qua e questa è una motosega della vigoro questa non è la mia però la usiamo comunque abbastanza abbastanza spesso a vederla è uguale precisa identica all'alpina non monta una barra oregon neanche la catena infatti si vede che è completamente mangiata la barra possiamo dire che questa non è una motosega ma sono quattro perché perché sono quattro motoseghe in una per farne una funzionante funzionante alla fine si è dovuto unire i pezzi di altre motoseghe uguali rotte accaltonate un po qua un po la per farne una funzionante come motore a grandi linee va è meno potente rispetto all'alpina comunque per quello che deve tagliare taglia il problema è che tutta la struttura è delicata questo per esempio è il blocco di sicurezza che sembra che sta ballando funziona è molto troppo gioco ed è anche un po pericoloso però funziona se si la blocco non funziona funziona questa non lo sapevo non funziona neanche il blocco di sicurezza comunque prima funzionava anche questa motosega più o meno ha quei 45 anni di vita e se non fosse stato per le altre tre motoseghe che sono stati inglobati in questa probabilmente ne avrebbe fatto meno di uno perché se la prima volta si è rotta dopo ci ha cominciato a tirare fuori i problemi dopo tre mesi di utilizzo tutti gli ingranaggi interni del per esempio del della messa in perché così dura della messa in moto sono in plastica e si spaccano in continuazione se si fa troppa forza per accenderli si strappa tutte la cordicella rimane in mano e li abbiamo dovuti sostituire un paio di volta infatti se vedete il coperchietto di un altro colore prima era giallo anche questo si sono distrutti perché ne abbiamo cambiato tre di questi il manico da questa parte si è rimasto in mano perché era uguale a questo e una volta si è rotto così non aveva né sbattuto tutto non c'è la caduta semplicemente si è staccato ed è rimasto staccato quindi per poterla utilizzare gli abbiamo messo un tubo di rama di quelli per l'acqua sembra un po stile a me domani però è la bene meglio funziona è un po un problema del carburatore perché non mi ricordo ora al marchio del che marca del carburatore si 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 scarbura da solo con le vibrazioni le viti della carburazione si mollano piano piano e quindi ogni tre per due bisogna lavorare con cacciavite in tasca e ogni ora e mezza più o meno ricarburarla la mattina è un trauma da accendere da accendere perché non ce la fa proprio il minimo mezz'ora quando va bene però taglia taglia roba piccola adesso comunque le fasce se ne stanno già andando a quel paese quindi comincia a perdere potenza e quando se provi a tagliare già tronchetti di 10 15 centimetri non ce la fa se si ingolfa e quindi a quella fine prende il volo la differenza comunque dell'alpina l'alpina anche tronchi del dello spessore c'è con tronchi di diametro pari a quello della lama comunque anche fine 20 25 centimetri l'italia ovviamente avendo un cavallo neanche meno un cucchetto non è che sia una gran potenza di motosega però il suo lavoro lo fa non ha mai dato grossi problemi come vi ho detto quindi per me l'alpina ha provato un altro acquisto sbagliato se possiamo dire così che poi non è neanche un acquisto sbagliato ma secondo me una questione un po di sfiga è stata questa questa è la prima 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 motosega che ho comprato mi serviva comunque una motosega economica abbastanza piccola teoricamente l'avrei voluta anche leggera per comunque per ramiciarmi per farmi un po di legnetta questa rappresa comunque avevo 18 anni non ricordo male ma non è mai andata c'era da mai è una mccalloc non so non ho la più palida idea di che modello sia perché non c'è scritto ho perso tutti gli adesivi comunque è una mccalloc lama 30 però io penso che sia penso che sia un difetto di questa macchina perché comunque non è non ha potenza quando comincia a toccare la legna la motosega si spaventa si ferma si ingolfa non taglia alla fine ho passato più tempo a sbatterla sulle pietre che a tagliarci legna non andava non è un problema della mccalloc perché ho provato tante motoseghe della mccalloc da quelle più piccole a questa acqua è di questa anche a quelle più grandi anche della ma 50 e a grandi linee mi ci sono sempre trovato bene sono comunque motoseghe pubistiche però il loro lavoro da lo fanno se comunque non non avete pretese di andare a fare forestazione grossa con queste motoseghe lavorano benissimo non mi ha mai dato l'ho tenuta comunque in funzione ci ho provato per tre anni ma sono stati tre anni di disperazione assoluta però in questi tre anni oltre comunque i suoi problemi di motore non mi ha mai dato altri problemi cioè l'ascensione ha sempre funzionato bene anche un buon carburatore mi pare che è un valbro valbro come si dica come componentistica è anche buona la barra è una ore con comunque anche la catena è ancora l'originale anche la catena della ore con sono buoni motoseghe a livello ubistico della meccanica però questa non ha mai funzionato l'ho mandata quattro o cinque volte in assistenza l'ho mandata quando era quella in garanzia finita la garanzia ho provato a mandarla da meccanici diversi ma non ne abbiamo mai tirato fuori piede la carburazione ha cambiato addirittura una volta del carburatore intero però non ce la fa quando tocca a legna si involfa si ferma quindi ho deciso di smetterla completamente e si vede perché l'ultima volta che l'ho utilizzata non è neanche pulita adesso è praticamente quattro anni e ferma così e penso che ormai diventerà un fossile in queste condizioni l'ultima new entry in azienda è questa è una motosega batteria della ego power questo è il modello se non ricordo male è il cs 1.6 e barra da 40 centimetri 16 pollici barra e catena della oregon a la regolazione della catena veloce anche questo non le classiche chiavi da le chiavi 13 quindi si fa in fretta anche a mollare smontare tutto equipaggiata con una batteria da da 56 volt a me con un amperaggio a vostra scelta io vi consiglio comunque per la motosega le batterie della ego quelle da da 5 o anche da 2,5 ampere perché comunque sono leggere usare le batterie più e più grandi ci abbiamo provato anche con la 7 ampere e mezzo funzionano ovviamente in ugual modo però è ovviamente più pesante a lavorare comunque con una motosega troppo pesante è scomodo la motosega più è leggera e meglio è noi con questa ci stiamo trovando benissimo alla fine quando dobbiamo tagliare il roba un po più grossa rispetto a quello per cui utilizzeremo questa alla fine ci stiamo sempre portando a presso però da lego perché è facile da utilizzare non da problemi di accensione basta finire la batteria e questa va sempre ha una buona potenza a noi piace comunque anche tagliando tronchi di più o meno di questo di questo diametro non ha problemi abbiamo provato a tagliare legname morbido anche di pari spessore a quello della lama quindi 40 centimetri e non ha avuto problemi taglia anche abbastanza velocemente quindi per noi questa è approvata una vecchia gloria che non è sempre stata nostra ma l'abbiamo diciamo ereditata è questa è la è la still da 0 10 avut e la mia intenzione di rimetterla a posto perché comunque una still il motore praticamente infinito mi piacciono le motoseghe mi piacciono le motoseghe vintage un po vecchiotte questa mi pare che è più grande nei miei anni questa messa che è più grande dovrebbe essere i fini anni 70 80 come ricordo a qualche problema non la stiamo utilizzando perché perché vabbè oltre a fare la che c'è la classica manutenzione al carburatore quindi bisogna cambiare membrane tutte quelle cose dargli una pulita generale bisogna cambiare le fasce perché anche questa ha problemi di perdita di potenza il motore gira che è una meraviglia sembra un vecchio moto cross due tempi anche il rumore sembra quello di meno di uno dei vecchi 125 due tempi da cross però avendo le fasce consumate come tocca a legna perde potenza quindi ne fa venire anche un po nervoso perché poi non taglia e soprattutto ogni tanto si incendia ha praticamente un buco nel probabilmente una perdita nel serbatoio e perde benzina ne perde poca e ne perde poca niente però a volte ma non è che facesse un fiammone chissà chissà quanto però bastava anche utilizzandolo soffiarlo non è il massimo della sicurezza soprattutto se si lavora d'estate nelle nostre zone c'è sempre il problema del rischio incendi e oltretutto probabilmente a fine giornata tornate a casa con la celetta fatta alle braccia comunque questo sarà uno dei magari i prossimi progettini che vedrete sul canale come proveremo speriamo di farci ad aggiustare questa stile più vecchia di me la nostra la nostra Husqvarna 61 è una motosega bella grande bella potente bella pesante ora l'avrete smontata perché è in fase di manutenzione devo cambiare le membrane e fare gli altri qualche altro lavoretto ma niente di che la motosega comunque membrane a parte funziona benissimo ha una barra Oregon ovviamente da 50 cm che tra un po' mi sa che sarà anche da cambiare perché comunque deve essere vecchiotta è una motosega pesante ora l'avrete senza coperchio questo è una motosega comunque pesante però è una motosega da battimento comunque ha quasi sei cavalli sono 5,8 cavalli è una bestia è veramente un piacere utilizzarla perché taglia tutto senza problemi e taglia anche velocemente però sei chili di peso sulle braccia senza benzina e senza olio dentro non sono pochi perché comunque lavorarci tutto il giorno è è veramente come andare in palestra poi vibra vibra parecchio questa motosega mi pare che è del 1991 quindi ha qualche annetto però devo dire che va che è una meraviglia come motore noi ce l'abbiamo da poco ce l'abbiamo tre anni più o meno questa e legna ne ha tagliato non tanta perché comunque noi non abbiamo purtroppo in zona alberi chissà quanto grossi tranne qualche eucaliptus che si può trovare un po' in giro però quando lavora lavora che è una meraviglia non mi ha mai fatto prendere nervosi inutili questa motosega perché non ha mai dato nessun tipo di problema non si è mai incempata la pompa dell'olio non si è a parte le membrane che utilizzandola poco si rovinano spesso non ha mai dato problemi di nessun tipo l'unica cosa che gli devo sistemare che si è rotto da poco è il freno di sicurezza perché si alla fine si è solo sganciato una molla che aveva qua per bloccarlo però però non l'ho ancora affatto non l'ho ancora aggiustata perché non riesco a trovare i pezzi originali di questo perché il freno di sicurezza ce l'ha nel coperchietto che va a coprire la frizione e dovrei cambiare tutto il coperchietto ma non lo voglio cambiare perché questa è la protezione in ferro ed è piccola però comoda invece i coperchietti che fanno adesso per questo modello di motosega abbiamo tutti il il blocco di sicurezza in plastica è un accrocchio gigantesco enorme probabilmente fatta a posto ed è anche più sicuro però non mi piace posso farvi un esempio con questa una volta abbiamo tagliato un olmo a pezzi per potercele poi caricare nel carrello ed era un olmo di 15 metri più o meno di altezza e il tronco era grosso così in un quarto d'ora abbiamo tagliato tutto la parte è grossa per amiciare tutto niente di che però è veramente una bestia quello che mi piace a me di lusquarna e non di quelle che ho provato io è che mi sembra che abbiano una marcia in più nelle situazioni difficili ovvero quando altre motosega che ho provato facevano anche più o meno lo stesso lavoro negli stessi tronchi andavano poi a sforzare a cominciare a perdere i giri lusquarna con gli stessi magari cavalli con le stesse caratteristiche grandi linee non lo fanno mi sembra che abbiano proprio una forza inerziale quando stanno tagliando maggiore rispetto ad altre che io ho provato anche altri marchi famosi anche rispetto alle stile però sono quelle che ho provato io questa è la mia esperienza personale ultima ma non ultima è l'alpina lama che ha preso questa volta a giro lama 40 il modello è la 405 è una motosega economica però abbastanza buona è molto molto comoda perché è leggera penso che pesi intorno ai 5 kg 4 e mezzo 5 siamo lì ci si lavora bene non mi ricordo la cilindrata non mi ricordo i cavalli penso che abbia intorno ai 2 cavalli e mezzo 3 all'incirca è comoda perché? perché è l'easy start ha una molla all'interno che si carica quando voi tirate e poi tira tutto assieme cioè fa girare da sola quel motore non bisogna prendere la motosega e lanciarla oppure appoggiarla per terra questa è una figata teoricamente anche chi ha poca forza problemi comunque nella muscolatura soprattutto magari i muratori con la classica periartrite alle braccia questa è perfetta è una motosega senza pretese non è chissà che cosa anche questa non è proprio indicata se ci lavorate tutti i giorni per fare forestazione per tagliarci praticamente 8 ore al giorno però il suo sporco lavoro lo fa è una motosega comunque sempre a livelli di livello obistico però io penso che sia comunque di un buon livello obistico anche questa non ci ha mai dato grossi problemi e dovrebbe avere se non sbaglio questa un tre anni di età e ne ha visto ha un costo contenuto c'è ancora il prezzo come fa da avere ancora il prezzo siamo intorno ai 280 euro non è che in lira no no in euro no 208 euro per 200 euro secondo me ne vale la pena perché facile da usare non da grossi problemi non è fatta di plastica non buona io sinceramente anche questa la consiglierei perché ci siamo sempre trovati bene alla fine comunque le motoseghe che utilizziamo praticamente di più e che comunque tra quelle che avevamo visto sono queste quattro l'alpina lama 40 la ego comodissima lama 40 l'alpina da ramiciatura con la lama da 25 e il nostro motocross dell'usguarna con la lama da 50 comunque sono ramiciatura ma è anche comunque lavoro in quota se dobbiamo fare degli abbattimenti controllati le motoseghe che utilizziamo per fare questo tipo di lavori quindi quando siamo sopra gli alberi e legati a delle funi un po' in bilico sono queste due ok? sono leggeri sono facili da usare adoro quella elettrica per lavorare in quota perché non la devo riaccendere ogni volta e comunque accendere una motosega con una lama di questo tipo e con un peso di questo tipo anche questa che ha l'isi start quando si è sopra gli alberi viene male l'alpina per fortuna si accende subito e non mi da problemi comunque avendo un motore piccolo praticamente compressione non ne ha e la si accende subito avrei preferito avere anche una motosega da ramicciatura elettrica sono praticamente innamorato delle steel e dell'usquarn a batteria sono molto comode e per lavorare in quota sugli alberi sarebbero veramente perfette chissà in futuro magari te la comprerremo allora l'usquarn a 61 come vi ho detto è una bestia la usiamo comunque per gli abbattimenti di alberi più grossi e poi per spezzare comunque tutti tutti i tronchi più grossi o di legname molto duro tipo l'olivo l'olivastro che a volte purtroppo capita di doverle di doverle tagliare per liberarcene o liberare la tirina di qualcun altro e utilizziamo questa perchè non si ferma davanti a niente non ha paura di niente ha una potenza incredibile sono quasi 6 cavalli comunque di motosega ed è veramente bello da è veramente proprio bella da utilizzare l'alpina l'ama 40 è molto comoda molto comoda perché è leggera l'easy start ha una buona potenza ma comunque rispetto a quella che è la motosega comunque il rapporto potenza peso per una motosega del genere almeno per quello che lo utilizziamo noi fa più che bene prima lo utilizzavamo di più abbiamo cominciato a utilizzarla un po' di meno quando ci è arrivata la la Ego a batteria perchè comunque è il pelletto più leggera quella dell'Ego ed ci viene più comoda però se dobbiamo fare lavori prolungati cioè di tutta una giornata non abbiamo la possibilità comunque di ricaricarci tutte le batterie in loco utilizziamo questa ragazzi prima di chiudere questo video volevo fare un piccolo appunto su queste due motoseghe non voglio non consigliarvi queste motoseghe perchè non è così la Vigor comunque è una motosega di fascia hobbistica molto hobbistica e per quello che la dovete prendere ovviamente questa in queste condizioni anche perchè si è utilizzata una motosega di fascia super hobbistica per far per farne comunque un uso intensivo e un po' di possiamo anche dire che è stata anche si è rotto anche il grilletto l'acceleratore questo non l'avevo notato comunque non vogliamo è vecchia dai non vogliamo dirvi che non ne vale la pena comprarla perchè comunque se tagliate in legna è tagliata in legna di piccole dimensioni poche volte all'anno questa comunque secondo me è perfetta ha un costo ridottissimo e costa quello che vale comunque se lo usate pochissimo ve la consiglio comunque non è così malvagia se la trattate bene ovviamente se dovete tagliare parecchia più in legna ogni anno e comunque abbastanza assiduamente o almeno nella stagione del legname la utilizzate per tre mesi consecutivi magari andate su qualcosa di un po' più evoluto stessa cosa per la meccallo come vi ho detto io meccallo che ne ho provato davvero tante dalle piccole alle più grandi anche le lama 50 e comunque sono delle buone motoseghe ubistiche penso che siano un'attacca superiore alle vigor anche due attacche superiore alla vigor perchè comunque come componentistica sono abbastanza fatte bene ve l'ho detto barra e catena della oregon anche della struttura di questa non mi sia mai rotto niente nonostante abbia volato perchè quando mi faceva arrabbiare poi la sbattevo anche per terra ma è ancora intera io penso di essere stato proprio sfigato ad aver preso una motosega difettosa di fabbrica perchè ho provato altre tre motoseghe se non ricordo male uguali a questa stesso modello e andavano bene la mia però non ce l'ho mai fatta quindi sono stato probabilmente sfigato io ragazzi a questo punto il video finisce qua nel prossimo video che riguarderà le motoseghe vi faremo vedere come noi effettuiamo la manutenzione ordinaria cioè quella che facciamo ogni fine giornata lavorativa utilizziamo le motoseghe e vi faremo vedere anche come effettuiamola sempre se riusciamo a mettere a posto il compressore si oggi volevamo fare il video sulla manutenzione delle motoseghe ma ci è partito il compressore e non carica più praticamente bisognerà fare le membrane anche a quello comunque vi faremo vedere nel prossimo video anche la manutenzione che noi effettuiamo a fine stagione prima del rimessaggio delle motoseghe quindi tutte le operazioni che facciamo per salvaguardare il più possibile il motore e per tenere le più pulite possibile a questo punto è tutto ciao ragazzi ci vediamo alla prossima sto perdendo i piedi da freddo vabbè c'è le scarpettine leggere ma anche con le vacchette le vacchette che si chiama queste?